Benvenuti nel canale delle notizie napoletane. Qui troverai gli ultimi aggiornamenti su squadra, giocatori e trasferimenti. Non perdere nessuna notizia e iscriviti ora per ricevere le notifiche dei nuovi video. E non dimenticare di mettere mi piace ai nostri video per sostenerci e aiutarci a crescere. E ora veniamo alle notizie. Sport Italia, giuntoli, missione in Galizia, nel mirino c'è Gabri Veiga. Gianluigi Longari di Sport Italia ha svelato un retroscena di mercato che la dice lunga sulla bravura del DS azzurro Cristiano Giuntoli. Gianluigi Longari, di Sport Italia, ha svelato una panoramica del mercato del Napoli attraverso il sito dell'emittente sportiva, oltre al momento in cui si celebrerà il tricolore, è opportuno evidenziare la programmazione e il lavoro di Mr. Spalletti e dell'architetto Cristiano Giuntoli. È più corteggiato che mai, e già all'inizio abbiamo fatto riferimento a una Juventus che sta facendo una rivoluzione da quel punto di vista. Inoltre, Longari aggiunge, comunque lo stesso Giuntoli vive, pensa e si nutre di calcio. Con una mentalità di questo tipo, è inevitabile che la programmazione segua un ritmo regolare e quasi spontaneo, quindi attenzione al profilo del Celta di Gabri Veiga di Vigo. Giuntoli si sente a casa in Galizia, visto che da lì ha portato lo vodka al Napoli e visto che sono sempre più frequenti le sue trasferte per vedere questo trequartista classe 2002. I costi dell'operazione sono alti, ma al ragazzo piace molto. Ha concluso Longari. Non dimenticare di iscriverti al canale di Notizie del Napoli per gli ultimi aggiornamenti meteo. E se il contenuto ti è piaciuto, lascia il tuo like per supportare il canale e contribuire a diffonderlo a più persone. Il tuo supporto è molto importante per noi.